Oltre 50 curriculum ricevuti in quattro giorni tra i candidati non solo residenti in provincia di Como, ma con il tam-tam di condivisioni su Facebook anche cittadini del Sud Italia. A farsi avanti soprattutto aspiranti aiuto cuochi, meno anelato il posto come cameriere di sala. Ma nonostante i riscontri positivi, ancora una volta si conferma che chi ha voglia di fare questi lavori non è il giovane uscito da un istituto alberghiero, bensì piuttosto chi al momento è senza occupazione e magari non ha alcuna esperienza pregressa nel settore. La cosa brutta è che purtroppo sui 50 curriculum 10, solo 10 erano di ragazzi diciamo giovani che arrivavano poi dalla scuola. Ci vorrebbe forse un po' più di studio sul campo, ecco diciamo magari bisognerebbe far andare più i ragazzi in cucina o magari anche i genitori il sabato e la domenica che purtroppo è uno dei nostri giorni di lavoro maggiori di provarle magari a inserire in qualche ristorante, da amici che hanno un ristorante o farle cucinare anche a casa, insomma devono iniziare a capire un po' qual è poi il loro lavoro perché poi arrivano in cucina e si trovano un po' in difficoltà. Si torna quindi alla situazione paradossale denunciata dallo chef. Tanti giovani sognano di diventare cracco ma pochi hanno voglia di farsi la gavetta necessaria a raggiungere tale posizione. Non tutti però sono dello stesso avviso. Tra i commenti al servizio andato in onda lo scorso sabato raccolti dalla nostra redazione alcuni telespettatori suggerivano che non fosse tanto una questione di scarsa voglia di lavorare quanto piuttosto un trattamento contrattuale ed economico che troppo spesso non corrisponde alle ore di effettivo lavoro richiesto. Purtroppo i contratti sono fermi da vent'anni e il contratto turistico è veramente uno dei contratti più vecchi che esista. In questo lavoro purtroppo le otto ore non ci sono mai. Capita, dipende anche perché è un lavoro molto... dipende anche dai clienti. Magari un giorno hai tanti clienti e devi rimanere qualche ora in più o il giorno dopo non ne hai quindi vai via prima. Ma diciamo che devi avere un po' di elasticità. Sicuramente è un lavoro dove io personalmente sono qua 10, 11, 12 ore al giorno. Chi comunque ha un contratto secondo me non ne fa 8 ma ne può fare 9, 9 e mezzo. Non è che poi vengono sfruttati come ho sentito dire ah ma noi ci siamo sfruttati ragazzi. Io credo che comunque 9 ore, 9 ore e mezza a 18, 19 anni si possono ancora fare. Purtroppo non è colpa mia ma purtroppo il lavoro è questo. Purtroppo non è colpa mia ma purtroppo il lavoro è questo.